Che cos'è il progetto Showing Vitruvius? Ma è una proposta che il Centro Studi Vitruviani fa alla città e anche alla politica, diciamo così, che si appresta a fare delle scelte per la città, di realizzare praticamente anno dopo anno i contenuti di quello che potrebbe essere il Museo del De Architettura, il Museo di Vitruvio, che sarebbe un museo unico al mondo e di grande forza attrattiva per la città. I contenuti ovviamente saranno elaborati da un comitato scientifico di primo livello e riteniamo che il rapporto Fano-Vitruvio possa essere finalmente, diciamo così, esplicitato, concretizzato attraverso una serie di esposizioni, un libro all'anno, che raccontano i contenuti del De Architettura, ma anche lo straordinario lascito vitruviano per la cultura occidentale. Sarebbe una cosa unica al mondo. Fano marcherebbe con questo progetto la propria identità e la propria specificità, quindi lavorare sulla storia della città, sul rapporto Fano-Vitruvio, diventa un progetto primario per valorizzare la città di Fano. E proponete di iniziare dal terzo libro? Proponiamo di iniziare dal terzo libro, peraltro l'avevamo già proposto due anni fa in vista della ricorrenza di Pesero XXIV, capitale della cultura, dal terzo libro perché è il libro dove Vitruvio descrive, diciamo così, parlando dei templi, che descrive il cosiddetto uomo vitruviano, ma anche perché ci consentiva di legare a questa esposizione anche un altro oggetto emblematico di Fano, cioè l'atleta di Fano dell'Isippo, perché quando Vitruvio descrive l'uomo vitruviano fa riferimento, ovviamente, agli scultori classici della Grecia, a Fidia, a Policleto, all'Isippo, e quindi il rapporto ci sembrava perfetto per illustrare l'icona massima della bellezza che è l'uomo vitruviano. Grazie a tutti.